Serie D, Gironeff, le abruzzesi in campo per la 32esima giornata, ancora 270 minuti da giocare per cullare i propri sogni. Reteotto trasmetterà in diretta la trasferta del Chieti a Monte Rotondo dalle ore 15. L'Aquila vuole ancora correre, vincere e sperare nella promozione diretta in Serie C, ovviamente campo basso permettendo. Il gruppo è pronto per l'ennesima battaglia sportiva nel catino del Gran Sasso d'Italia contro lo United Riccione, intento a gettare il cuore oltre l'ostacolo per ottenere punti salvezza pesantissimi. Nei rosso-blu sarà certamente assente Giulio Dori. Cappellacci vuole vincere ancora davanti al proprio pubblico per rimanere sulla scia della capolista. Sul campo del Real Monte Rotondo ore 15, diretta tv in esclusiva su Reteotto, il Chieti ha un dubbio tra i pali, Serra e Antignani in ballottaggio. Molto dipende dalle condizioni di Vesi che non è al meglio dopo la botta presa nel derby contro il Notaresco. Il centrale si stava allenando in settimana ma potrebbe anche non rischiare. Se non dovesse farcela Luiso confermerebbe Esposito in difesa e Serra in porta. Con Vesi in campo invece rientro di Consonni in difesa e in porta potrebbe andare Antignani. Il Chieti costretto a vincere per inseguire i playoff distanti due punti a tre giornate dalla fine. L'Avezzano che ha battuto la Vigor Senigaglia domenica scorsa ed è tornato al quarto posto adesso va di scena a Tivoli contro una squadra alla ricerca di punti salvezza. Contro i Laziali il tecnico Pagliarini squalificato per quattro giornate dovrebbe schierare la stessa formazione dell'ultima gara. Da valutare il centrale difensivo Damceschi e l'attaccante Tuncara che domenica scorsa sono finiti in tribuna per scelta tecnica. I due, ha fatto sapere il tecnico, non erano in perfette condizioni. Anche il Notaresco spera ancora ma è ospite della capolista Campobasso. Terza sfida stagionale per Bruno contro i Molisani nelle precedenti due sempre sconfitti i Terramani. Gli uomini dell'ex centrocampista del Pescara hanno il terz'ultimo impegno. I prossimi saranno quelli con Atletico Ascoli e L'Aquila. Rosso-Blu ancora matematicamente in corsa per i play-off però per riuscirci dovrebbero espugnare i campi delle prime due della classe e vincere contro i Marchigiani. Contro il Campobasso rientra dalla squalifica Pietrantonio mentre è stato fermato dal giudice Pulsoni. Scipione dovrebbe farcela dopo aver saltato per acciacchi il derby con il Chieti.